Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi faccio questo video anticipazione alle prossime uscite della Cranio Creations perché è stato come un fulmine a ciel sereno quando l'ho visto giorni fa e finalmente si torna a parlare di un capolavoro, quale Nemesis, gioco spettacolare sia competitivo che cooperativo ed è un gioco che se vi ricordate ho già portato sul canale ed è l'edizione italiana a cura della Cranio Creations che io ancora una volta saluto e ringrazio perché mi hanno offerto la scatola base ma già si parla di più di un anno fa, subito appena uscito ma ora come fulmine a ciel sereno e non me l'aspettavo assolutamente appare sulla loro pagina Facebook la notizia della pubblicazione anzi della ristampa non soltanto del gioco base ovviamente corretto da tutti quanti i problemi che l'avevano afflitto nella prima edizione vi ricordate c'era qualche errore nel regolamento c'era qualche carta che mancava che poi Cranio ci ha fornito a tutti mandato per posta quindi fu corretto subito al tempo però proprio ora è una nuova edizione e questi problemi non ci sono più e in più le espansioni se vi ricordate famose che vi ho già fatto vedere io ho un'edizione inglese della Waken Realms ma questa volta escono anche queste tradotte in italiano e abbiamo Nemesis, l'espansione Carnomorph che è la mia preferita perché ve lo trasforma non uso mezze parole, ve lo trasforma in Dead Space infatti non a caso la Waken Realms ha voluto usare un po' tutte le ambientazioni più famose Nemesis di base è Alien Carnomorph invece è l'espansione che lo avvicina un po' a Dead Space e Nemesis Void Seeders ricorda secondo me un po' più una via di mezzo con un film alla Event Horizon e cose del genere perché in questa prima espansione che costano tutte e due 70 euro trovate nuovi alieni che sembrano un po' i Necromorfi più ovviamente ci sono anche nuove missioni, nuove scenari e quant'altro per quanto la mappa è sempre la stessa, è quella della nave Nemesis in questa seconda espansione Void Seeders trovate un tipo di alieni che sono geniali non sono fisici quindi non li potete abbattere non c'è modo per ucciderli con le armi nel vecchio stile però sono alieni tipo fatti di energia sono creature astrali fatte anche un po' di energia oscura o qualcosa comunque che si alimenta volendo anche con gli stessi sistemi vitali della nave e più che loro tentare di uccidervi mireranno a farvi impazzire quindi è un altro tipo di sfida bellissima che più che mettervi contro alieni veri e propri cercherà di farveli entrare nella testa per farvi impazzire e sabotare la missione se non addirittura suicidarsi e morire quindi comunque è un'alternativa veramente veramente spettacolare poi abbiamo a 55 euro la scatola Alien Kings questa qua giù e in questa scatola all'interno che qui il contenuto eccolo qua si vede praticamente oltre alle regine aliene alla regina aliena che c'è nel gioco base avremo anche un re intruso un re Void Seeder e tre re decarnomorfi quindi come vedete ci sono re maschi per il gioco base più le espansioni che è una cosa che voglio assolutamente poi abbiamo lo Space Cats che è la cosa più bella fatta in questo gioco nelle varie versioni anche qui una miniatura gattino spaziale l'astronauta normalissimo una miniatura gatto intruso per quello normale del gioco base una miniatura gatto Void Seeder e carnomorfo più le carte vedete le art card il gatto alla fin fine non è qualcosa che si può utilizzare all'interno del gioco vi ricordate il gatto era se non erro il segna tempo quello per l'autodistruzione della nave e quindi è una cosa ovviamente è anche un richiamo a Jones il gatto di Ripley della Nostromo quindi anche un po' un tributo che un gioco del genere doveva giustamente fare andando a richiamare un po' quell'ambientazione horror sci-fi che tutti quanti adoriamo e che appunto ha ispirato i natali di questo gioco e abbiamo questi gatti in tutte le forme che questo è una cosa che potete comprare anche a parte sì o no tanto sono comunque dovrebbe essere il segna tempo se non erro il gatto e poi per 50 euro abbiamo anche i Terrain anche questo acquisto completamente e totalmente opzionale dove abbiamo i nidi delle uova vedete qua giù tutti quanti gli astronauti morti quindi quando mori un astronauta avete proprio il cadavere che vi ricordate c'è una meccanica che lo potete portare nel laboratorio per esaminarlo nel caso abbiate una missione o anche per rivelare delle debolezze degli alieni le capsule proprio fisiche in 3D per scappare dalla nave più tutte quante le porte come vedete qua giù i portelloni della nave che si possono aprire e chiudere o bloccare ora tutto quanto tradotto in italiano manca qualcuno giustamente ha detto ma non vedo Aftermath perché l'espansione Aftermath quella che arriva alla navetta di salvataggio con sopra il proprietario della Nemesis un po' tipo la Whalen di Utani perché quella manca non c'è perché giustamente come hanno risposto sulla pagina ufficiale della Cranio quello era uno stretch goal della campagna Kickstarter queste no queste erano proprio espansioni ufficiali del gioco tutte quello invece era qualcosa di unicamente dedicata al Kickstarter io ce l'ho Aftermath però se e ve lo farò vedere ma chi non ha fatto il Kickstarter non lo può avere era proprio un'esclusiva unica e non un'espansione a parte quindi preparatevi perché sta per arrivare tutta quanta questa roba i prezzi sono sempre gli stessi come quando è uscita la prima volta 140 euro e sono convinto che andrà a ruba a ruba nel minor tempo possibile il gioco lo potete tranquillamente acquistare come vi dico sempre primo link in descrizione e in sovraimpressione dal nostro negozio sponsor gioco libreria semola al miglior prezzo sul mercato e vi ripeto se il gioco lo trovate in lista ma è finito le copie sono finite oppure proprio non c'è scrivete a Corrado il proprietario mandato una mail al supporto al contattaci fate presente che arrivate dal mio canale dal canale di Coridan lui farà il possibile per trovarvelo al miglior prezzo sul mercato e usate sempre il codice sconto Coridan 7 per avere uno sconto e un discount pari al 7% e per spese superiore ai 79 euro spese postali gratuite in 24 ore vi arrivi a casa in tutta Europa la gioco libreria semola è buona perché di tutti i giochi ne ordina sempre non una o due copie ne ordina anche 8 o 10 quindi quando dall'altra parte sono finite e di solito dal nostro negozio sponsor si trovano sempre comunque ce l'avrà sicuramente in lista ma se non lo trovate o è finito voi comunque contattatelo e magari una copia ve la trova lo stesso io colgo l'occasione per salutare e ringraziare anche una volta la Cranio Creations e ragazzi uno dei più bei stavo per dire GDR giochi da tavolo board game mai creati è tornato ancora più potenziate con tutte le espansioni non vedo l'ora ciao ragazzi alla prossima